Spalliano Guantembe Spalliano 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 Guantembe Ma non mi dica che cosa fai Tutti stanno sentendo veramente Si è? si è che per te sono campanile tupo di questa sana, non è Ma non dico in questo modo, non vedi che avevi fatto ma non vedi le gacce Ma non è un mandio aperto No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.